Spazio dedicato al pallamano e al volley, ospite nei nostri studi Istok Fulanich, collaboratore del Primozki Devnik e teleconista delle partite dello Sloga Tabor Televita del Prata Volley. Iniziamo a parlare quindi di pallamano, campionato di serie A1 con l'amaro pareggio in quel di colonie da parte della formazione di coach Giorgio Veglia che così ancora non riesce a festeggiare a livello matematico la promozione nel girone unico 2018-2019. Sì, effettivamente si sta verificando una serie di pareggi che nella pallamano sono molto rari, invece Trieste è riuscita a pareggiare per la terza volta in questo girone promozione, chiamiamolo così, ufficialmente si chiama così anche se di fatto non si capisce come può essere eventualmente promosso uno che già sta in A1, ma questi sono i misteri della pallamano italiana. Comunque, indipendentemente da questo, un terzo pareggio che ovviamente lascia l'amaro in bocca perché con una vittoria a pochi secondi dalla fine, se non ci fosse stata questa nuova regola introdotta recentemente dalla Federazione Mondiale di Pallamano che punisce di fatto ogni fallo negli ultimi 30 secondi di gioco, punita con questo rigore segnato dal Colonia a pochi secondi dalla fine che di fatto prolunga, almeno fino alla partita infrasettimanale con Bressanone, la decisione in merito alla, in ogni caso credo quasi scontata promozione o mantenimento dello status di compagine di A1 per la pallamano Trieste, perché di fatto veramente dovrebbe succedere un cataclisma nelle ultime due giornate per Trieste, per farsi superare sia da Colonia che da Oriago-Padova, che seguono a tre e quattro punti di distanza e dunque Trieste non dovrebbe conquistare nemmeno un punto nelle ultime due giornate e le altre due squadre entrambe fare due vittorie bottino pieno, anche visto il calendario mi pare pressoché impossibile, ovvio che tutti ci auguriamo che già questo mercoledì si riesca a conquistare quel punticino che sancierebbe una, chiamiamola, promozione sudata ma meritatissima per i ragazzi di Oveglia. Che idea ti sei fatto in generale su questa pool promozione? Ma una pool promozione sicuramente interessante perché di fatto ogni posizione conta, anche arrivare quinti o sesti, poi vuol dire per chi appunto arriva quarto, quinto o sesto non c'è la salvezza immediata, però c'è un'altra possibilità per salvarsi e restare in A1. Ebbene, in base al piazzamento comunque avrai un avversario sulla carta più semplice nelle fasi successive. Pertanto è un sistema interessante che fino all'ultimo porterà a delle sfide emozionanti. Sicuramente tutto il sistema è abbastanza complicato, soprattutto per le fasi successive. C'è già tutta una serie di squadre che ormai è retrocessa, sia dopo la prima fase, adesso con le pool salvezza. Però direi che è una pool promozione molto interessante. Questi continui pareggi dimostrano anche un equilibrio incredibile tra le squadre. Poi ricordiamo che la quarta, quinta e sesta hanno appunto questo apiglio, però anche partono con dei vantaggi a seconda della classifica della fase successiva. Sì, sì, ma appunto mi pare corretto così, anche perché una squadra che appunto finora ha fatto meglio, è giusto che poi non arrivi a partite da dentro e fuori senza alcun vantaggio. È stata, diciamo, organizzata bene, un po' complicato questo sistema. Più volte li abbiamo ribadito, probabilmente sarebbe stato più corretto farlo in due annate successive, passare magari da tre a due gironi e poi a un girone unico. È stato deciso di fare un repulisti totale in una stagione sola. Nessuno dava tanto per scontato la permanenza in A1 per i ragazzi di Ovelia, ma, ripeto, toccandoci tutte le cose che si toccano in questi casi, farò d'altro, diciamo che siamo veramente al 95-99% salvi, il che è sicuramente un ottimo risultato e per nulla scontato ad inizio stagione. Passiamo a parlare di volley, notte dolenti, provengono dallo slogan. Eh sì, dolenti note, altra sconfitta, brutta sconfitta, un altro 3-0 senza discussioni. È una sconfitta che fa molto male perché in questo momento i ragazzi di Aroncic sarebbero retrocessi. Sono penultimi a una lunghezza di distanza dal Conselvein che ha vinto 3-2 nell'ultima giornata e con questi due punti ha scavalcato lo slogan Tabor Televita che deve assolutamente effettuare il controsorpasso nelle ultime due giornate. E leggendo il calendario diciamo che possiamo tranquillamente equipararlo, quello del slogan Televita e quello del Conselvein. E dunque questo punto di vantaggio dei Patavini potrebbe essere decisivo, soprattutto perché il Televita sta affrontando un momento di forma, ma più che fisica, direi più psicologica, veramente difficile. Devono tirare fuori gli attributi perché veramente se no la salvezza sarà difficile da conquistare. Onestamente la vedo molto dura, sono pessimista perché non ho visto, ovviamente non ho visto la partita in trasferta di domenica, ho visto l'ultima in casa e mi sembravano un po' più che demotivati, impauriti, senza un canale offensivo che negli anni passati era biribanti a cui affidare i palloni decisivi, senza di lui si trovano un po' persi in campo, non c'è il leader, non c'è quello che chiama l'ultimo pallone al palleggiatore, lo metto io per terra e dunque manca un po' di fiducia. Io spero che i ragazzi di Aroncic mi smentiscano, ma se dovessi scommettere un euro su quale delle due squadre si salverà, in questo momento direi che sono favoriti proprio i patavini, non solo per il punto in più in classifica. Passiamo a parlare invece alle note più liete sicuramente, e quindi parliamo del Prata Volley. Il Prata Volley che ha riposato in questa giornata e ha due lunghezze dal Porto Viro che però riposerà a sua volta e dunque con due vittorie nelle ultime due giornate, ovvero con cinque punti nelle ultime due giornate, potrebbero anche permettersi di vincere una partita per 3 a 2, dovrebbero conquistare il primo posto che sicuramente è un buon viatico in vista dei play-off. Perché bisogna ricordare che nella B maschile nemmeno la prima classificata viene promossa direttamente in A2, ma c'è tutta una serie di fasi di play-off. Le prime in classifica entrano successivamente, pertanto hanno meno turni da giocare. Ovviamente ogni anno ci provano, ci prova il Prata, il Gore-Wines, speriamo che sia l'anno buono, anche perché l'età media della squadra non è proprio bassissima. ci sono alcuni elementi di grande esperienza che onestamente meriterebbero anche di festeggiare una promozione che sarebbe anche una ciliegina sulla torta per la carriera che hanno fatto.